Mister Raimodiana, quali sono le sensazioni alla vigilia del prima partita che la Reggiana disputerà nei play-off a Salò contro la Feralpi Salò e come la sua squadra affronta questo momento e questa gara? Bene, le sensazioni sono buone, ci siamo allenati bene, nonostante il caldo abbia creato qualche problematica durante la settimana, ci siamo però abituati, abbiamo lavorato bene, senza grandissimi intoppi, speriamo di aver fatto le cose giuste, mi piacerebbe ritrovare la squadra che ho lasciato, non sarà magari così, però punto anche sulla mentalità dei ragazzi, sulla voglia di dimostrare una volta di più la loro forza. Che tipo di avversario è la Feralpi Salò che per Mister Diana e per il suo secondo Alessio Baresi è anche una partita che affrontano da ex e com'è da avversario la squadra allenata da vecchi? No, è una buonissima squadra, sono anni ormai che la Feralpi Salò sta tentando il salto, arriva sicuramente sempre tra le prime otto d'Italia e è una squadra ambiziosa, una squadra forte, un forte che arriva a questo livello, non può non esserlo, ovviamente arriva anche da un paio di partite già giocate, quindi sicuramente ha anche un morale abbastanza alto, una squadra che ha delle qualità importanti, detto questo, anche noi l'abbiamo, quindi mi voglio focalizzare un pochettino più sulle nostre capacità che sono altrettanto di qualità come le loro. Com'è stato questo periodo lungo, in attesa di questa partita e in particolare che sensazione ha lasciato il saluto dei tifosi avvenuto sabato al centro sportivo di Cavazzoli? È stato lungo, molto lungo, non voglio dire lo guarante no, perché l'abbiamo vissuto comunque con una buona serenità, con i tempi giusti, è chiaro che un mese senza partite ufficiali secondo me pone nella squadra che arriva meglio in Tresivica qualche difficoltà, soprattutto di impatto della partita, sarà un po' d'osservazione, sarà un po' da vedere, sarà bravi anche noi a saper gestire la partita, se c'è da fare dei cambi, insomma mi auguro di ritrovare un pochettino la squadra che abbiamo lasciato o comunque intravedere quello spirito che tra la partita di andata e la partita di ritorno dovremmo cercare di fare nostro.